Vertice in gran segreto, Moirano e Arru a Carbonia. Stamattina si è tenuta una riunione tra il super manager dell'Asdo Unica, l'assessore regionale della sanità e i principali dirigenti sanitari del sud. Cronaca, una miniera d'oro nel campo Rom di Carbonia. I carabinieri hanno rinvenuto oggetti rubati per un valore di 40.000 euro. Si tratta di orologi Rolex, gioielli, monili e attrezzi di lavoro. Sant'Antioco, prime manovre in vista delle elezioni comunali. Sono due i candidati a sindaco che hanno ufficializzato la loro corsa per la poltrona di primo cittadino. Alberto Fois e Massimo Meris. Domani l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, nei nostri studi. Marino sarà ospite della trasmissione Mattino 40, in onda a partire dalle 10. Ben ritrovati su Canale 40. In apertura del nostro telegiornale il vertice della sanità che si è tenuto oggi in gran segreto tra il super manager dell'ATS, Fulvio Moirano, l'assessore regionale della sanità, Luigi Arru, e i maggiori rappresentanti della sanità del sul Cisiglesiente. Sentiamo alcune indiscrezioni e anticipazioni sull'esito di questo incontro in questo servizio. Un vertice in gran segreto si è svolto stamattina a Carbonia tra il super manager dell'ATS, Fulvio Moirano, l'assessore regionale della sanità, Luigi Arru, e i principali dirigenti del sistema sanitario nel sul Cisiglese. Un vertice svoltosi alla grande miniera di Serbariu. Anche i sindaci del territorio, in primis la prima cittadina di Carbonia, Paola Massidda, erano nelle prime ore della mattinata totalmente all'oscuro della presenza nel sul Cisiglese del super manager dell'ATS, Fulvio Moirano, e dell'assessore regionale Luigi Arru. Il principale argomento oggetto di dibattito è stata la riorganizzazione del sistema ospedaliero del sul Cisiglese. Secondo indiscrezioni, la riorganizzazione potrebbe comportare ulteriori chiusure di reparti ospedalieri e di poliambulatori del territorio, come paventato dal super manager Moirano. Ed è ancora sotto gli occhi di tutti il trasferimento nel novembre scorso del reparto di ginecologia ed ostetricia dall'ospedale Sirai di Carbonia al CTO di Iglesias. Un trasferimento che fece insorgere diverse partorienti carboniensi, oltre alla protesta dei sindaci del territorio per l'ennesimo depotenziamento di strutture che caratterizza la città di Carbonia. Moirano e Arru hanno interloquito con i responsabili del reparto ospedalieri del sul Cis per cercare di risolvere anche altre criticità legate per esempio alla carenza di personale, all'avvertenza fasce dei dipendenti dell'ex AS7 di Carbonia. Il super manager Moirano ha studiato con i vertici sanitari del sul Cis anche alcune contromisure da adottare per ridurre la mobilità passiva verso Cagliari e il problema dei lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche. Citiamo soltanto alcuni esempi. Prima di effettuare una visita gastroenterologica all'ospedale Sirai possono passare addirittura qualcosa come 324 giorni. Tempi biblici anche per una mammografia, dove al Sirai occorre attendere mediamente 203 giorni e al CTO di Iglesias 223 giorni. Infine, per un'ecografia all'addome, all'ospedale Sirai si deve pazientare anche 171 giorni, mentre al CTO di Iglesias 189 giorni. Insomma, una serie di problemi che attanagliano la sanità del sul Cis, problemi da affrontare sempre con un occhio al bilancio disastrato di questo settore. Il buco di bilancio della sanità regionale nel 2016 è infatti di circa 300 milioni di euro. Un settore di capitale importanza, quello della salute, si trova in dissesto finanziario, nonostante i piani per la razionalizzazione dei costi, la riduzione del personale e il taglio dei reparti. La nostra speranza è solo una, far sì che a pagare non siano sempre soli pazienti su cui vengono spesso scaricati i costi di gestione economica e deficitaria. E ora ci spostiamo alla cronaca, un'importante operazione da parte della compagnia dei carabinieri di Carbonia, che ieri hanno rinvenuto nel campo ROM di Carbonia oggetti di valore per circa 40 mila euro, oggetti di valore che erano rigorosamente rubati, si parla di Rolex, di gioielli, di monili e di attrezzi da lavoro. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Carbonia, coordinati dal Maggiore Giuseppe Licari, nella giornata di ieri hanno scovato una miniera d'oro nel campo ROM cittadino. Si tratta di oggetti rubati per un valore di circa 40 mila euro. I carabinieri hanno rinvenuto orologi Rolex, gioielli, monili, ma anche attrezzi da lavoro e una cassaforte blindata con quattro fucili. I militari, coadiuvati dai cacciatori di Sardegna e dai colleghi delle stazioni di Narcao, Teulada, Sant'Antioco e Nugis, con l'appoggio aereo, hanno effettuato le perquisizioni nel campo ROM. Quattro persone residenti nel campo ROM sono state denunciate a piede libero con le accuse di ricettazione e possesso illegale di armi. Si tratta di un 45enne, un 25enne, un 20enne e un 19enne. Parte della refurtiva proveniva da un furto ai danni di un pensionato 75enne di Sant'Antioco. L'arrestante parte del bottino proveniva da altri due furti perpetrati dai malviventi negli scorsi mesi. Tutto è stato restituito ai legittimi proprietari. Manca ancora un Rolex, del quale si sono perse le tracce. Si cercano anche armi non trovate nelle cassaforti. E continuiamo con la cronaca. Un ricco bollettino per quanto concerne la cronaca del successo iglesiente nella giornata di ieri, particolari in questo servizio. A Teulada i carabinieri della stazione locale hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per stabilire il suo stato di eventuale ebrezza, un 46enne residente a Nugis. L'uomo, a Piscinas, alla guida dopo aver abusato di sostanze alcoliche, aveva causato un incidente stradale tamponando un altro veicolo regolarmente parcheggiato in strada. Il 46enne di Nugis è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia dove non ha consentito al prelievo di campioni liquido-biologici per il rilevamento di tracce di sostanze alcoliche. All'uomo è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Continuando con la cronaca, una ragazza 33enne disoccupata di Sant'Adi ha denunciato ai carabinieri che i gnoti nella serata di ieri si erano introdotti in una rimessa di attrezzi di proprietà della ragazza forzando un lucchetto posto a chiusura della porta d'ingresso rubando così una saldatrice e un compressore. Successivamente, dall'oggiato esterno dello stesso capannone, i ladri si sono impossessati di due motoseghe. E torniamo a parlare del furto di 500 kg di rame dallo stabilimento Ex Cardnet di Iglesias. I carabinieri di Carbonia hanno tratto in arresto Nicola Wolfgang Martorana, 27enne arrestato e posto in libertà dopo l'udienza del processo per il furto di 500 kg di rame appunto. Martorana era in affidamento ai servizi sociali per un altro furto e doveva ancora scontare i sette mesi con vari obblighi tra cui quello di rientrare in casa ad una certa ora ma soprattutto di non commettere altri reati. Visto il furto di rame da lui commesso la sera del 13 febbraio il magistrato di sorveglianza ha deciso di revocargli l'affidamento e quindi ieri pomeriggio è stato condotto presso il carcere di Uta dove sconterà parte della sua pena. Per il furto del rame l'udienza è stata aggiornata al 3 marzo quando verrà ascoltato uno dei militari che ha proceduto al suo arresto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale in cui torniamo a parlare dell'avvertenza Polar la fabbrica di Bentonite di Piscinas. Andiamo ad ascoltare le ultime novità in un'intervista che abbiamo realizzato con Gianfranco Trullu che è il Presidente dell'Unione dei Comuni del Sulcis. Gianfranco Trullu, Presidente dell'Unione dei Comuni del Sulcis parliamo delle ultime novità per quanto riguarda la fabbrica di Bentonite Polar di Piscinas. Sì, abbiamo svolto due giorni fa un'assemblea pubblica indetta dal Sindaco di Piscinas Mariano Cogotti sulla problematica e sulla conflittualità insistente in questa fabbrica che è una delle poche ancora aperte nel nostro territorio assemblea pubblica alla quale hanno partecipato alcuni sindaci compreso io, il Sindaco di Masainas, il Vice-Sinnaco di Giba nonché alcuni consiglieri regionali Luca Pizzuto e Gigi Rubio più i lavoratori e più le organizzazioni territoriali del Sindacato. Si è fatto un punto della situazione e soprattutto della criticità che purtroppo sembra essere un cappio al colo per questa azienda infatti alcuni licenziamenti che sono in corso a quali seguono dei trasferimenti da parte dell'impresa nel continente hanno acquito la conflittualità tra personale e imprenditore. Si è detto che io come Presidente dell'Unione e tutti i sindaci avremmo voluto che ci fosse un dialogo tra l'impresa e i lavoratori e i sindacati che sono la forza sociale in maniera tale da fare opera di mediazione. Ieri si sono incontrati alla Regione con l'assessore all'industria anche l'assessore all'industria credo che interverrà per fare questa mediazione ma quello che ho detto io e che confermo che oggi sulla stampa è che è necessario appurare se l'imprenditore sia effettivamente intenzionato e come mi aveva detto tempo fa a raddoppiare la produzione e soprattutto ad aumentare l'occupazione e non a diminuirla. Questa è la situazione, credo che l'assessore abbia preso tempo per verificare questa situazione e spero che nell'ambito della verifica facendo salvi i posti di lavoro, quindi con una diminuzione dei licenziamenti per me dovrebbero essere tutti annullati, si possa trovare quel clima di serenità per sì che l'unica impresa che dovrebbe essere attiva sotto il profilo del bilancio possa finalmente servire al territorio anche per un nuovo modo di sviluppo che è al di là di quello di Porto Scusa. E dall'avvertenza Polar ci spostiamo all'avvertenza del mondo agricolo sardo ricorderete tutti quanti della manifestazione che si è tenuta a Cagliari il primo febbraio scorso, andiamo anche in questo caso ad ascoltare le novità in un'intervista telefonica che abbiamo realizzato con Gianluigi Rubio che è il capogruppo dell'Udc in Consiglio regionale. In collegamento telefonico Gianluigi Rubio, capogruppo dell'Udc in Consiglio regionale per parlare del mondo agricolo sardo. Il primo febbraio il Consiglio regionale ha stabilito una serie di azioni da proporre per quanto riguarda questo settore e a distanza di 20 giorni si registra il silenzio assordante della Regione. Quali sono le novità? Diciamo che la novità che appare a tutti è proprio questa che a distanza di 20 giorni non è cambiato assolutamente nulla il Consiglio regionale non ha preso nessuna decisione sono stati disattesi tutti gli impegni che in qualche modo tramite un documento votato in modo unitario della maggioranza e della minoranza sono stati approvati i provvedimenti di tampone per cercare di venire incontro alle esigenze del mondo agricolo una fra tutte quella della media disposizione 14 milioni di euro per il ritiro dei formaggi depositati presso le cooperative e presso i casifici questo avrebbe consentito nell'immediato un aumento del prezzo del latte per arrivare a 0,80 centesimi al litro che non risolve i problemi ma avrebbe dato sicuramente il respiro alle aziende agricole tra i scorsi 20 giorni la Commissione non ha ancora trattato nessuno di questi argomenti il Consiglio regionale non si è occupato del tema ma soprattutto così come noi avevamo chiesto i contributi comunitari non sono arrivati l'ennesima beffa delle beffe il bando sull'imprenditoria giovanile il bando 6.1 così tecnicamente chiamato che avrebbe dovuto consentire ai giovani imprenditori di intraprendere l'attività a oggi è stato sospeso quindi se prima c'era una scadenza per la presentazione delle domande oggi siamo al ridicolo, all'assurdo è stato sospeso il bando quindi una situazione sicuramente stagnante che non fa bene all'economia della Sardegna non fa bene soprattutto all'agricoltura e ora parliamo delle elezioni amministrative che si terranno in diversi comuni del Sulcis a partire dalla prossima primavera i fari puntati sono soprattutto sul comune di Sant'Antioco andiamo a ascoltare appunto quali sono le ultime indiscrezioni per quanto concerne i candidati alla prossima competizione elettorale amministrativa nella prossima primavera si svolgeranno le elezioni amministrative in diversi comuni del Sulcis i fari sono puntati soprattutto sui due comuni di Sant'Antioco e Porto Scuso concentriamo quest'oggi la nostra attenzione su Sant'Antioco comune di 11.000 abitanti amministrato dal 2006 dal sindaco Mario Corongiu il quale non si ricandiderà alla guida del paese lagunare in quanto ha già svolto due mandati amministrativi fino ad ora hanno ufficializzato la loro candidatura due aspiranti sindaci si tratta di Alberto Fois del movimento Gentinoa e di Massimo Meris del movimento Sant'Antioco Attiva si fanno poi i nomi per il momento ufficiosi di Marco Massa attualmente vice sindaco di Sant'Antioco insistenti sono anche le voci che vorrebbero come candidato sindaco del centrodestra Ignazio Locci attualmente consigliere regionale di Forza Italia Locci non ha però ancora sciolto le riserve dal momento che non è esclusa una sua candidatura alle prossime elezioni politiche nazionali o nel 2019 alle prossime elezioni regionali faranno parte del Consiglio Comunale Antiochense 16 persone saranno quindi 16 i seggi disponibili di cui 10 attribuiti alla maggioranza e 6 all'opposizione Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale il primo, il 2 aprile, il comune di Porto Scuso parteciperà alla trasmissione televisiva di Re 2 Mezzogiorno in Famiglia Una squadra di giovani portoscusesi sfiderà un'altra città d'Italia Il 23 febbraio, presso la sala Alcoa della Biblioteca Comunale di Porto Scuso alle 17 sono previste le selezioni dei partecipanti La squadra di Porto Scuso sarà composta tra 12 persone maggiorenni e si tratterrà negli studi televisivi di Roma per tre giorni Sono previsti collegamenti con Porto Scuso nel corso della diretta televisiva E ora siamo agli appuntamenti domani alle 17 a Carbonia alla grande miniera di Serbario si terrà la presentazione del libro di Ignazio Marino dal titolo Un Marziano a Roma Marino verrà intervistato dal giornalista Umberto Aime il libro è edito da Feltrinelli e ricordiamo che l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino sarà ospite domani mattina nei nostri studi televisivi per la trasmissione Mattino 40 in onda alle ore 10 e ora cambiamo argomento ci spostiamo allo sport perché domani è previsto il derby tra VBA, Olimpia Sant'Antioco e Sassari per quanto concerne il campionato maschile di pallavolo Serie B1 Sentiamo Tempo di derby nel campionato maschile di pallavolo Serie B1 domani alle 18 al pala Giacomo Cabras di Sant'Antioco i lagunari sfideranno la Silvio Pellico Sassari già battuta all'andata per 3-7 a 0 per la VBA Olimpia Sant'Antioco l'imperativo è vincere per riscattare la sconfitta della settimana scorsa sul parquet della capolista Saronno i lagunari si trovano al quarto posto in classifica con 33 punti a 7 lunghezze di distanza dalla prima posizione utile per l'accesso ai playoff promozioni in Serie A2 i ragazzi allenati da coach Graziano Longu hanno fino ad ora un ruolino di marcia di tutto il rispetto per effetto delle 11 vittorie conseguite in 16 partite dall'altra parte Sassari è invece fanalino di coda della classifica con 0 punti squadra giovane quella del Nord Sardegna che cercherà di vendere cara la pelle pur di sottrarre punti agli antiochensi d'altra parte è un derby e come tutti i derby che si rispettino le motivazioni e gli stimoli saranno elevatissimi appuntamento per domani alle 18 al palazzetto dello sport di Sant'Antioco ebbene con lo sport si chiude il nostro telegiornale adesso ci sono le previsioni del tempo poi il telegiornale in lingua sarda Noas in Curzu condotto dalla nostra Giovanna De Si e vi ricordiamo l'importante appuntamento per la giornata di domani con la trasmissione mattino 40 in onda su canale 40 a partire dalle ore 10 rigorosamente in diretta sarà ospite di Manolo Mureddu l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino grazie per la cortesa attenzione e arrivederci Previsioni meteo per sabato 18 febbraio banchi di nebbia al mattino i venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord nord ovest con intensità di 8 km orari possibili raffiche fino a 12 km orari temperature minime comprese tra 4 e 9 gradi e massime comprese tra 12 e 17 gradi